Per quanto riguarda il rullante, abbiamo questo tipo di equalizzazione, quindi un'enfatizzazione dei 200 Hz per dare comunque molta presenza al rullante, soprattutto sulle frequenze basse e medio basse. Sulle medio basse ho enfatizzato tutto ciò che era intorno ai 300 Hz. Poi ho tolto un po' di 4.400 Hz e poi per quanto riguarda gli alti ho aggiunto un po' di frequenza intorno agli 8000 Hz. Ovviamente la batteria che ho utilizzato ha avuto bisogno di questi settaggi. Poi, compressione è quasi identica a quella della cassa, quindi abbiamo all'incirca gli stessi parametri. Gate non ne ho voluto utilizzare per non perdere le Ghost Note. Infatti adesso lo ascoltiamo prima senza il plugin della SSL. Ok. Quindi il suono che è stato ripreso era questo. Con il plugin della SSL è... è cambiato. Ok. Quindi adesso... ha acquistato comunque corpo, che prima comunque non aveva, era molto sulle medie e infatti le medio-alte sono state tolte proprio per questo motivo. Ok. Quindi questo per quanto riguarda il rullante, quindi un intervento veramente molto semplice, non ci è voluto molto per poterlo attuare comunque. È un suono abbastanza semplice da poter ottenere. Grazie a tutti! Grazie a tutti.